E qui non è questione di ascoltare un dissenso e quindi di carpirne il voto, è questione di dare voce a gente che invece viene trascurata. Perché il buonismo in questo paese sta annebbiando anche la vista dei problemi degli italiani. Ma perché il buonismo? Ma quale il buonismo? Scusa, Papa Bergoglio è buonista? Ma il Papa fa il Papa, il Presidente del Consiglio dei Ministri deve governare l'Italia, punto. Se in Italia non c'è spazio per tutti, bisogna dirlo. Non si può dire invece di dare il messaggio venite tutti che vi mettiamo in albero. Ma chi dà questo messaggio? Il messaggio che passa è questo. Ho capito, ma quelli fuggono perché gli tagliano le teste, fuggono perché li ammazzano. Senti, ma se tu avessi... Scusa, Gandiani, tu sei una persona ragionevole.